Salve ragazzi o ragazze o... quello che è. Prima di iniziare il video vorrei fare tre punti della situazione. In primis, grazie per i mille iscritti a questo canale. Lavorerò presto all'animatic, ve lo prometto. In secondo luogo, questa canzone la troverete anche nel canale Spark, assieme alla season premiere della seconda stagione di Hell of a Boss, dove ho dato voce a due personaggi, curato le grafiche, adattato la canzone in italiano e cantato nei panni di Stolas. Punto numero tre. Nella versione italiana di Piper Pepone ci sono anch'io. Condividiamo lo stesso personaggio, Cash Baxo, il padre di Blitz. E adesso godetevi il video, ma soprattutto iscrivetevi. Attivate la campanella. Grazie a tutti. 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 Hola, mi mostri già la tua dolce età, nulla è cambiato e mi son stancato di questa perforza. Anzi, nelle stanze sei entrato ed un grande brillio nella mia vita hai portato tu. Tra noi c'era magia, ma è solo una gran bugia sull'illuso che ha creduto e trovava allegria. Sono un reale, tutto solo e tanto fragile. Io parlerò, ma scelta non ho in quest'aureo carcere.